ciao a tutti quanti sono io Mario e io sono tornato in un altro nuovo video e per oggi io vi farò vedere le mie maschere che è una di quali mi sono comprati da amazon o altri che mi sono comprato dal negozio adesso vi farò vedere qui c'è la mia maschera di Anonymous io sono grande fan e Anonymous papà il mio padre mi ha ordinato a amazon questo la mia terza ma si sembra un po simile ma un po diverso un po più grande questo l'ho comprato sul mio tablet mio papà mi ha comprato sul mio tablet a ebay questo è una maschera di carnivale mi sono comprato a Romania uno bello a me piace è troppo solido e anche questo l'ho comprato alla Romania è un po più bello dell'altro questo è un po più grande e questo ho comprato qui in Italia ma ho comprato a un negozio la sua plastica è un po morbida è un po più grande della versione 1 questo maschera dal film vi per vendetta e qui c'è un'altra maschera di vi per vendetta e questo è ancora troppo grande degli altri due è un po solido è più potere e me mi piace Anonymous anche il film vi per vendetta è uno dei miei film favoriti dorirò che io ero un grande hacker di Anonymous mi piace i hacker tanto e qui c'è la maschera del film Jason Voorhees voi conoscete il film vi spaventerà tanto questo ho comprato al negozio è uno dei miei preferati con il suo colore bianco è troppo bello tantissimo mi piace tanto tanto molto ok se a voi vi è piaciuto questo video non dimenticate di dare un like e un subscribe vi vedrò a un nuovo prossimo video ok ciao